Con la preghiera del Rosario di questa sera desideriamo supplicare Maria, Regina della Pace, perché c'essino le divisioni, le liti e le guerre tra i popoli. Affiodiamoci alla sua materna intercessione. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Benedetta Dio Onipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Grazie. 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 Grazie.